musica 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 quando troverai le nuve si dirà king e sculato uno è busto dell'altro francese eh patrizio viva vavos finalmente patrizio che bello che bello che bello è vero che c'è swap però questo ormai l'hai preso per fare lo swap e c'hai il cdc almeno fino ad aprile febbraio dai febbraio marzo dai febbraio marzo it's time se si requisite l'altra volta 1 2 3 con naso fa niente argentina cc il sorcio me lo sentivo senza paura il socio vai signori io vado con la tecnica del naso vado con la tecnica del naso no comitata comitata vediamo chi esce attenzione Brasile ciocci nooo il dottore il dottore il dottore il dottore è il momento del Brasile adesso sto uscendo parecchi brasiliani il dottore il dottore allora signori panchetto hai con base oppure mid io vado con il naso ehi ti prego yehi attenzione tedesco attaccante miroslav glose dammi cerd muller erami licks sto glose un po' me it's time vamos dammelo buono please yehi ha caricato giusto un po' italia cc andrea pirlo il buon pirlo next gen mi pare che allenti next gen non è una win chiaramente non è una win chiaramente però per il meme il maestro magari si può utilizzare signori pronti con l'icon vai che cosa esce questa volta da l'icon olandese no kuman e raikard e raikard 88 rated certo quando vedi questa nazione inizi già a impazzire raikard mezzo mezzo utilizzabile con ombra ma niente di chiaro ragazzi schippabile forse anche lui si può dire si maicon il proprietario anche se il nascondino vediamo un pochettino cosa riusciamo a trovare ovviamente ragazzi la chat mi deve dire su quale nazione andare a puntare quindi me lo direte direttamente voi ragazzi mi direte direttamente voi la nazione su quale nazione andare a puntare io partirei già con l'argentina troppe argentini sto vedendo ragazzi l'icona è ripetibile tra tre giorni argentina vai brasile magari brasil scossa inglese no lampard ah no non può essere lampard è 87 e più non può essere lampard non può essere lampard è 87 e più del piero alex del piero è proprio lui ragazzi è proprio lui questa volta con i gomma esce attenzione già dalla nazione cambiamo chi è ma tu che bello best mamma mia che bello che bello best che bello best che bello best che bello best bellissimo bellissimo con la maletta del Manchester City tra l'altro che glitch brasile brasile tedesco dc bello matt dai dai ha funzionato però dai questo lo puoi mettere anche al centro tappo devo dire che al bacio e al bacio al bacio al bacio al centro tappo va benissimo questo non lo mette di c perché sempre col gomito a me la buona sta nazionalità attenzione c'è un po' di lag signori è lui sir ken daclish daclish vabos daclish signori vabos ulaxi 85 rated signori beh si parte ragazzi si parte easy che cosa è icon ok andiamo da astrupal ok oh drogba richiesto da proprietario dell'account argentina ts sanetti questo next gen con lenti potrebbe essere utilizzabile non il top del top però con lenti magari potrebbe essere mezzo utilizzabile niente di che comunque poteva essere il socio però almeno questo un trello potresti anche dare a questo glitch vediamo brasile brasile netved check è utilizzabilissimo questo l'ha avuto per un sacco di tempo l'anno scorso per un sacco di tempo è utilizzabilissimo questa non è brutta signori vado con l'altro pacchetto uno del zoom vai dammi un'altra buona please chi è? NEDVED eh eh NEDVED 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 89 rated mmm si può utilizzare per ogni e 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